Salve a tutti, sono qui ad annunciare la mia candidatura al ruolo di consigliere a sostegno di Scullino Sindaco. Mi candido perché sento di voler dare ancora molto alla mia città. Per questo io ho fatto la mia scelta. Scelgo 20 miglia. Oggi devo dire che è una giornata molto positiva. Nella scelta di ricandidarmi ho avuto il grande onore, la fortuna, il grande onore di ricevere l'adesione della signorina Palmero, già mia assessore ai servizi sociali. Leolora ha avuto il grande piacere di lavorare gomito a gomito per diversi anni e ho potuto apprezzare le sue doti umane, la disponibilità, la ricerca della conoscenza e l'approfondimento delle pratiche. Io devo ringraziarla. Devo ringraziarla per la fiducia che oggi mi ha dato accettando di sottoscrivere la candidatura nella lista Scelgo 20 miglia.